Buonasera. Per la conoscenza e approfondimento della figura di Pasolini, ha dedicato studi e memorie incredibilmente straordinari, scusate l'iperbole, alla figura di Pasolini, un suo libro Pasolini, una vita, che è uscito qualche anno fa, poi era fuori edizione, adesso è stato riedito e lo trovate disponibile qui davanti. È un capolavoro imprescindibile per conoscere e orientarsi all'interno della vita e dell'opera di Pasolini, per cui siamo straordinariamente felici e fortunati di avere la testimonianza di Nico Nardini con noi. Altro protagonista eccezionale della conversazione di oggi è Roberto Chiesi, curatore responsabile del Centro Studi Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna, accreditico cinematografico, studioso, autore di moltissime monografie, dedicato alla Sala del Cina. Grazie, buonasera. Buonacelli, buonasera. Quanti bei giorni avevo passato insieme. Bene, buonasera a tutti. Ecco, per cominciare questa conversazione con te, io ho pensato di scegliere così una serie di pagine dei libri che hai dedicato a Pasolini e di chiederti di partire dalle immagini che contengono, dalle evocazioni di momenti particolari, dalle emozioni anche che raccontano, che descrivono, naturalmente perché tu poi possa seguire il filo di divagazioni o di associazioni di altri ricordi che queste immagini convocano, che queste immagini possono richiamare. Ecco, c'è una pagina che mi sembra molto significativa di Breve Vita di Pasolini, che è un libro che hai pubblicato qualche anno fa, dove fai una sorta di viaggio breve, di sintesi della biografia, della tormentata biografia pasoliniana, ed è una pagina dove fissi proprio un'immagine estemporanea, molto breve, relativa a una, sì, agli ultimi anni, probabilmente appartiene credo agli anni 70, tu eri a Roma, stavi lavorando come ha detto stampa per la PEA, e ecco, adesso leggo brevemente queste righe e poi ti chiedo appunto di parlarne, perché mi sembra veramente una pagina oltretutto molto bella come tante tue pagine. Frequentavo i giardinetti di piazza dei Cinquecento sotto le mura delle Terme di Diocleziano, che servivano anche da pisciatoio, e l'aroma muschioso risaliva ai millenni. Alla sera quei giardinetti erano la pista della libera uscita dalle caserme del Castro Pretorio. Negli ultimi mesi avevo visto passare un paio di volte l'automobile di Pasolini, benché Spider di Granmarca era sempre impolverata e con qualche ammaccatura, cose che facevano immaginare i luoghi degradati e violenti attraverso cui era passata. Lo si sapeva da sempre. Pierpaolo era la persona più coraggiosa e imprudente mai conosciuta. Il suo coraggio era condizionato da desideri ossessivi che lo portavano dovunque. Ma gli ultimi tempi avevano ricoperto anche lui della polvere delle amare rinunce. In uno dei passaggi davanti ai giardinetti mi vide e si fermò. Forse si aspettava andasse a salutarlo, che magari gli indicassi piste più favorevoli. Rimasi seduto al tavolo del caffè. Mi turbavano la sua faccia dai lineamenti tirati, la magrezza, il disorientamento. Sì, è tutto vero. È anche vero che nei 40-50 anni precedenti c'è stato un rapporto con Pasolini in cui il mondo giovanile seducente o è ossessivo da rappresentare in qualsiasi modo o in un modo scritto, in una qualche poesia. Questo mondo era quello che ci ha condizionato tutta la vita. Tutta la vita, io ho parlato con Pasolini, naturalmente si parlava di infinite cose, ma il fondo era questa attrazione tremenda che noi provavamo per il mondo giovanile. sia nelle campagne friulane che qui a Roma, dove Pasolini ha avuto un'epoca felice, sul Tevere, al Ciriola, con la figura eponima di Sandro Penna. Sandro Penna era una specie di di idolo che naturalmente si trascinava come un mendicante, un idolo mendicante, che però aveva un'attrazione a sua volta incredibile sui ragazzi, al punto che Pasolini un giorno indispettito che questi ragazzi si affollassero racconto cose banali e poco, poco... No, no, assolutamente. Si affollassero intorno a lui come una vittima, come un eroe che si sacrifica e è salito su un tram e è andato via. Penna era un personaggio imbattibile. Quando ha scritto delle poesie era imbattibile come poeta. Quando decideva di romperti le scatole era uno scocciatore al di là dell'immaginabile. Ti telefonava alle tre di notte piangendo, dicendo che era povero. Era vero che era povero, non aveva mai fatto un bel niente nella sua vita. Sì, aveva venduto un po' di quadri semi-autentici, diciamo semi-autentici. Però negli ultimi tempi invece era tragicamente depresso. Non si alzava più dal letto, aveva trovato un tubo di neon da mettere sopra la testa perché diceva che aveva freddo in testa. quindi gli pioveva addosso un calore sprigionato da questi tubi. Io parlo di penna perché è il più grande, insomma, è uno dei più grandi poeti. Poi è vissuto a Roma, è vissuto tutto il paesaggio a parte le prime poesie. Quello che sta nel fondo delle sue poesie è Roma. e allora perché io ho lasciato Pasolini non era più il tempo di essere contenti, allegri. Qualche anno prima, se mi fosse capito, lo vedevo tutti i giorni intanto, lavorava a montare il salò sotto il mio ufficio. Lo vedevo ma erano in compartimenti diversi che quello che di trovarsi in piazza dei Cinquecento. E lì non c'era più gioia. Io aspettavo forse un mio amico ma insomma e lui era disperato e non era quella disperazione che l'ha portato a scrivere pagine drammatiche, a riscrivere le poesie friulane che erano tutto un canto alla bellezza, alla gioventù della natura oltre che la gioventù umana, a riscriverlo in senso negativo, una cosa che non era mai successo forse un caso unico della letteratura che uno smentisca tutto quello che ha detto dicendo no, non è vero quello che era gioia eccetera non esiste ecco per questa ragione adesso il discorso sarebbe molto troppo lungo e noioso per questa ragione non l'ho raggiunto e ho lasciato che se ne andasse anche perché non sentivo proprio presentivo anche qualche cosa di infatti è lì che ha conosciuto Pelosi ecco sì ma fra l'altro colpisce questa pagina perché in genere nei tuoi libri nelle biografie che hai scritto su di lui tu naturalmente hai ben descritto anche questa eccezionale energia che aveva questa forza che aveva Pasolini forza interiore forza anche fisica invece in questa pagina quello che colpisce è proprio che tu cogli un'immagine di improvvisa fragilità come cioè tu parli di disorientamento che credo è una parola che per uno come Pasolini è sorprendente no? credo sì perché non c'era lui era orientatissimo nella sua vita non non anche nelle situazioni più di emergenza più sconsigliabili e qui nei stato testimone Moravia quando andavano in giro per l'Africa e rientravano in albergo al crepuscolo Pasolini mangiava in fretta e furia dopodiché spariva nelle bidonville africane cosa assolutamente di imprudenza e veniva riportato dalla polizia la polizia aveva come compito non di di redarguirlo ma di portarlo al sicuro in albergo ecco e poi non aveva più aveva perduto insomma se la vita è un'illusione di tante cose lui le aveva perdute tutte e al fondo di queste illusioni aveva trovato un'atroce amarezza della vita che poi non si consolava hai una visione ultraterrena di meriti o di meriti da riscuotere nel al di là non c'era nulla di in lui di in Pasolini di questo per questo l'amarezza era quindi totale e poteva sfogarsi soltanto scrivendo inventando reinventando un genere giornalistico che era caduto di moda da 30 anni l'elzeviro e a scrivere questi elzeviri sul Corriere della Sera che formano il libro il scritti corsari lettere luterane ecco tu parli di amarezza quindi di atroce amarezza c'è un altro c'è un altro brano della biografia dove racconti che lui spesso si sfogava con te su questa delusione profonda che ormai gli procuravano i giovani proprio i giovani i ragazzi del popolo che ormai erano diventati in realtà dei piccolo borghesi erano diventati erano omologati e tu di fronte a questa totale delusione che lui ti esprimeva sentivi proprio come l'esigenza di quasi di rifiutarla tanto era forte tanto era no perché no perché Pasolini aveva individuato in questo stato di cose in questi stati d'animo in queste varie esperienze quello che in cinema si dice il montaggio alla rovescia cioè Pasolini diceva la morte è un momento epico tragico ma fondamentalmente epico l'unico momento epico della vita in cui in pochi attimi si può ripercorrere a ritroso tutte le fasi dell'esistenza e questa teoria chiamiamola teoria insomma sulla morte la applicava alla vita quella la bellezza la gioia la simpatia gli accenti bellissimi accenti giovanili il le battute ironiche dei giovani dei ragazzi tutto questo forse era falso era falso una ricostruzione a rovescio delle cose era un'illusione sull'illusione per cui insomma rimaneva solo Sergio Citti il vero ma Citti non apparteneva al mondo della gioia sensuale certamente era un piccolo genio e da cui Pasolini ha appreso moltissimo io vorrei che un filologo come si usa fare nella filologia letteraria sapesse individuare nei film di Pasolini tutti gli apporti di Citti che sono tanti nascosti chiacchierati detti così andando fuori andando trovandosi in casa lui portava dei grandi pesci alla madre di Pasolini che pescava a Fiumicino e magari faceva una battu quella battu Pasolini aveva lo straordinario facoltà di registrare tutto quello che veniva detto come una specie di registratore meccanico attuale e distillare quelle parole in modo di raggiungere la realtà delle persone del mondo del mondo che gli si parava davanti sia attraverso i toni della voce le battute le risatine le prese in giro eccetera sia le fisionomie ecco l'ultima cosa che è rimasta viva in secondo Pasolini era la fisionomia infatti a cattone è un film ritardato un prodotto di ritardo rispetto all'esperienza che voleva rappresentare perché quelle fisionomie erano già scomparse però in questa enclave così lì dove abitava Citi eccetera era rimasti questi ragazzi queste fisionomie antiche ecco e Pasolini ha cercato tutta la vita le fisionomie o antiche o non antiche o tragiche o una grande medea ecco ha usato attore di primissimo livello tra cui in Salò con gli altri c'era Paolo Bonacelli e quindi tu dici che in a cattone nel 61 quel tipo di popolazione di marginali che abitavano in quelle baracche cioè in realtà era già un mondo scomparso era già un mondo di morti allora tu prendi Mamma Roma lo sfondo di Mamma Roma qual è? queste costruzioni che avanzano nella campagna e occupano e distruggono e compiono il genocidio del popolo romano questo è quello che vuole dire Pasolini ecco l'ha spiegato in Mamma Roma cioè ancora più più tardi ancora ecco poi c'è una te ne accennavo prima c'è una tua poesia che secondo me è bellissima una tua poesia friulana raccolta poi nella curva di San Floreano la tua raccolta di poesie che si intitola Avevo due amici ecco io ti vorrei chiedere di commentare alcuni versi di questa poesia che è dedicata a Pasolini e a Comisso tu fai due bellissimi ritratti dei due amici scrittori adesso leggo in italiano per non violentare il io non voglio leggere sono pochi versi avevo due amici che sono morti il primo che è morto mi ha detto non rimuginare per i vivi tutto è godere l'altro che è morto mi ha detto quante volte hai temuto morissi devi vivere adesso con quella paura il primo era ricco di sorgenti di estati e di fiumi di ragazzi che si denudavano come angeli che volano l'altro era povero duro per sé senza pace di un giorno senza amore aveva un godere crepato un vivere sognato di fanciulli assassini non ditemi nulla basta col suo grande affare anche ora che gli si è sfatto vabbè questa è una poesia di grande crisi dovuta alla morte di Pasolini e quindi di grande di grande depressione curata con i psicofarmaci ma adesso non mi voglio dilungare su queste cose il i due personaggi che si fronteggiano durante questa mia depressione chiedo scusa se faccio dell'autobiografia durante questa grande depressione diagnosticata da Cancrini credo che era il biome Parise mi ha detto vieni via dalla tua casa io ho una bellissima casa a San Giovanni vieni nella mia casetta che ho sopra piazza adesso mi viene in mente è una piazza famosa dove c'è il masoleo di Augusto piazza San Piazza Augusto all'ultimo piano una una stanza elegantissima e lì io sono stato due o tre mesi con psicologo a dosare i psicofarmaci ma leggendo Comisso Comisso è uno scrittore veneto che io ho conosciuto che è stato amico mio che è stato molto ammirato anche da Pasolini molto amato era uno che ha potuto vedere la vita adesso noi non si sa se è vero o non è vero che la vita di 50 anni fa era meglio di adesso ma c'erano delle figure affascinanti i contadini i giovani contadini le stesse opere e i giorni del mondo contadino erano straordinariamente affascinanti Comisso è il cantore chiamiamolo così di questo mondo essendo vissuto per molti anni proprio nella campagna più fonda più del piave e mi ha dato quella era la via per riacciuffare riavere un po' di vitalità mentre tutto quello che riguardava Pasolini lo trovavo terribilmente segnato dall'inizio un destino che si componeva fino alla soluzione finale ecco il che lui avesse cambiato completamente il rapporto con i ragazzi romani è vero temeva l'assassinio temeva l'assassinio lo temeva oggettivamente quasi visto come un'ultima parte di un destino disegnato molto tempo prima ecco in questo confronto che è come dire è come una seduta invece di andare da Cancrini ho fatto questa ho scritto questa poesia che mi è costata di meno ecco che andare senti ma e perché scrivi quindi definisci Pasolini duro per sé con un godere crepato ecco perché hai scelto queste parole duro per sé perché Pasolini era molto severo era non ammettere era dolcissimo nelle nei rapporti umani gentilissimo ma allo stesso tempo di una quello che voleva era doveva essere fatto non dava era duro contro i compromessi duro contro il sminuire la tragedia la tragedia quello il buonismo ecco adesso è una parola che è venuta fuori da poco tempo era proprio il contrario di quello che era il buonismo era duro in questo senso è un vivere crepato e una riproduzione di una parola friulana che è con 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 delle crepe con delle con delle fratture ecco perché le fratture erano dovute proprio a questo questa cosa però usi anche la parola sognato cioè quindi che la la dimensione onirica visionaria era per lui molto importante beh sì tutto il mondo friulano di Pasolini si chiama il sogno di una cosa e vabbè il sogno di una cosa è una frase che addirittura è di Carlo Marx ma e riguarda il riscatto popolare attraverso le teorie marxiste ma era anche un sogno di Pasolini trovare questi ragazzi rappresentare questi ragazzi quando in Salò ci sono molti punti in Salò in cui viene fuori il dentro questo arido secco tremendo consuntivo di quello che lui vedeva questa esagerazione queste torture che erano una proiezione di una cosa reale messa dentro un Luca Signorelli non è che rappresentasse la realtà insomma gli artisti proiettano e quindi ci sono molte parti in cui rispunta questo sogno di una verginità di un mondo primitivo di un mondo legato alla natura rispunta spesso perfino in questo film senti invece andando indietro nel tempo c'è nel catalogo della mostra un'intervista molto molto bella che ti è stata fatta dove tu descrivi molto precisamente anche quella che era l'idea che avevate di Roma nella giovinezza una Roma che non vi affascinava anzi vi respingeva come sede del Papa come soprattutto come sede delle adunate in piazza Venezia per noi Roma era piazza Venezia con dei finti personaggi che inneggiavano perché erano poi comandati questi io ne so qualcosa perché mia madre era scretaria del fascio femminile e quindi si portava un due trecento contadini e le raccomandava di battere le mani ecco tanto per e Roma non era quando lui e quando Pasolini ha avuto come dire la defenestrazione sia dalla scuola che dal partito comunista dalla vita culturale friulana dalla stessa famiglia perché suo padre mamma mia la tragedia che ha fatto in casa Roma è stata una tappa perché qui noi avevamo un parente benestante un famoso antiquario che poteva il quale insomma in qualche modo ha aiutato Pasolini ma Pasolini intendeva andare partire fare il rembò da strapazzo ecco come dice lui ecco andare in Africa andare in in Oriente in Medio Oriente sentiva cose che poi ha realizzato dopo quando si è sistemato un po' naturalmente la vita è fatta sempre di qualche compromesso non c'è nessun virtuoso totale lui ha scritto in quegli anni in quei mesi lì di prima sistemazione romana sui giornali di destra erano gli unici scriveva con pseudonimo questo non vuol dire scriveva ma erano anche gli unici danari che aveva che riusciva ad avere senti ma tu che hai vissuto tutta questa fase così complessa della denuncia a Casarsa quindi della fine dell'idilio casarsese e anche dell'epos casarsese il trauma di dover lasciare quel mondo ecco che cosa ti ha colpito invece dell'euforia con cui Pasolini ti descrive Roma la Roma dei margini nelle lettere poi immagino che te ne parlasse anche di persona quando tu lo venivi a trovare immagino ecco che cosa ti ha colpito che descriveva Roma dice tu hai visto quel film Roma al sole due soldi di speranza due soldi di speranza dice ah tu non hai idea che hai ragazzi meravigliosi faceva anche per farmi un po' di rabbia insomma c'è tutte le cose c'è sempre una componente terra a terra in ogni caso la cacciata di Pasolini da da casarsa si basa tutta su chiacchiere perfide chiacchiere quello che poi torna a ripetersi nella sua vita attraverso vari episodi come quello del cerceo eccetera in cui tutto il dramma di Pasolini è una una chiacchiera un un motivo di contrastare la sua personalità la sua originalità la sua anche forza intellettuale nel caso del friuli è il seguente Pasolini dopo molte incertezze si era convinto di iscriversi al partito comunista addirittura aveva ottenuto gli avevano offerto la responsabilità di una cellula comunista ora le cellule nel mondo comunista contavano proprio come le cellule nel corpo umano erano e da lì che partiva il la rivoluzione e Pasolini non la sua dottrina era molto scarsa quasi inesistente lui non come intellettuale avrebbe dovuto leggere perlomeno il capitale non so o i grandi i grandi marxisti del no no e ha fatto coincidere questa sua vocazione politica per così si politica con l'amore per la sua dedizione al popolo ha trovato nel partito comunista il mezzo per avvicinare il popolo avendo come istituzione in modo che non fosse soltanto una mina vagante nel mondo popolare ma un'istituzione e da lì sono partiti tutti i guai perché è subito la democrazia cristiana dominante la regione gli ha fatto sapere che se continuava questa propaganda comunista perché faceva discorsi faceva dei tazzebao se continuava questa sua vocazione comunista l'avrebbe pagata duramente ora io ogni tanto la mia vita si incrocia con quella di Pasolini ed è quella che mi ha dato la forza poi di scrivere quello che ho fatto in realtà io non avevo nessuna voglia di scrivere neanche una riga su Pasolini mi ero proposto dico guai a me ma invece poi il poeta Andrea Tanzotto dice guarda io sto raccogliendo delle poesie facendo un'antologia fai un raccontino degli anni friolani poi è arrivato l'editore Giulio Einaudi che mi dice ma perché non raccogli insomma io per far piacere a Tanzotto e a Giulio Einaudi sono diventato un biografo non diciamo di che livello ecco si incrocia perché il mio preside di liceo perché io ero ancora uno studente liceale ero stato appena maturato al liceo di Udine e il mio preside del liceo di che nel frattempo aveva fatto carriera politica era diventato un deputato democristiano ma di quelli cattolici lo spiritualismo francese francese mi ha mandato a chiamare che io non ero più un suo studente e mi ha detto se lei non dice al suo cugino che la smetta io so che ci sono pronti i modi per incastrarlo io avevo deciso di non dire niente a Pasolini per vedere mi sembrava esagerata questa cosa non riuscimo a capirla ma Pasolini che aveva un grande intuito mi ha detto perché sei andato da questo tuo ex pre che cosa c'entra con te questo tuo ex pre cosa c'entri tu con la democrazia cristiana e allora glielo ho detto ha alzato le spalle ma le ha alzate le spalle come quello che si decide a affrontare il suo come un personaggio diciamo naturalmente con i dovuti rispetti delle misure un personaggio greco della tragedia greca che sposa il suo destino ecco ma la cosa più discutibile non è tanto la guerra che gli ha fatto la democrazia cristiana che in qualche modo era prevedibile era nel come dire nei manuali della lotta politica ma è il comportamento del partito comunista quello è molto grave perché Pasolini è stato interrogato dal maresciallo dei carabinieri di Casarsa la tiro troppo per le lunghe il quale gli ha detto ma come lei professore perché lui insegnava in una scuola media come come fa avere rapporti con dei ragazzini ragazzotti dietro di cespugli in campagna eccetera ma non si ma si sa che gli artisti sono tutti strani D'Annunzio per esempio si era levato delle costole per riuscire a farsi delle auto auto come si chiamano Fellazio delle auto Fellazio ecco questo era il tono e Pasolini ha preso per la palla al balzo per dire ma ha ragione io sa ho letto Gide ho letto Sartre volevo provare un'esperienza ma era una roba che si diceva a un maresciallo dei carabinieri questa si soprattutto citare Gide no? soprattutto citare Sartre era una cosa che soltanto poteva essere giustica allora questo maresciallo dice eh sì anche se io non so chi è Gide e non so chi è Sartre capisco che che lei si è trovata in questa situazione però guardi io devo mandare avanti la faccenda perché è di dominio pubblico e il partito comunista nella figura di uno dirigente di nome Fernando Mautino ha scritto un articolo a parso su unità dove dice ecco quello che è successo è gravissimo perché l'omosessualità intanto è da condannare totalmente e in più si giustifica l'omosessualità con la peggiore delle letterature correnti cioè Gide e Sartre e questo è scritto nell'unità tutti lo possono leggere e ma e questo è le cose hanno degli ecchi che vanno indietro e degli ecchi che vanno avanti questa storia ha un eco che va indietro io essendomi diplomato maturato la mia mamma fa una festa un pranzo in casa e invita i miei amici i nostri amici Pasolini gli amici e questo Mautino è il mio professore di storia dell'arte Mautino tornando nella federazione comunista di Udine fa una relazione e dice effettivamente in quella siccome poi da casa da casa della mia mamma virtuosissima a parte le sue collusioni col fascismo che erano state dimenticate siamo andati in un paese dove tutti i ragazzi erano comunisti dove si beveva ci siamo uriacati eccetera eccetera e ha scritto una relazione sul sul mondo depravato e depravato erano dei buonissimi ragazzi contadini non erano depravati un bel niente con i quali tra l'altro Pasolini non aveva avuto neanche nulla successivamente la cosa continua questo è l'eco di quello che viene ma poi passano gli anni passano gli anni io sono a Milano a lavorare in una casa editrice un po' scontento Vittorio Sereni il poeta Vittorio Sereni che era a capo uno dei capi della pubblicità Pirelli dice senti se vuoi vieni a lavorare con me intanto ti do il doppio dello stipendio e questo era molto importante e poi lavori con me e dico accidenti io lavorare con te vengo proprio anche insomma ho fatto tutto domande visite mediche il giorno la mattina che dovevo presentarmi a lavorare dell'ufficio di Vittorio Sereni mi arriva una lettera la sua domanda di essere assunto alla Pirelli è stata rifiutata perché per un esubero di personale firma questo accadeva alle sette e mezza è venuto un messo apposta e allora io ho aspettato un'intera settimana per incontrare Vittorio Sereni e Vittorio Sereni mi ha detto mi dispiace dirtelo ma un fatto puramente formale che nelle assunzioni che facciamo noi è di rivolgersi ai carabinieri del luogo di origine del neoassunto chiedendogli se ha delle cose pendenti e questi hanno scritto il maesterno dei carabinieri ha scritto è parente di un noto omosessuale sospettato di essere omosessuale pure lui e con questo io sono stato licenziato prima nello stesso momento in cui sono stato assunto sono stato licenziato questi erano poi i tempi in cui viviamo allora ecco non so se ho esagerato nelle confessioni ma insomma è tutto no grazie Grazie a tutti.